ciao bambini ciao cinelli è tornata la primavera e con la primavera è tornata anche marisa vi ricordate marisa la gazza che viene sempre a trovarci nel giardino nella nostra scuola di castelluovo dei sabbioni eccola qua questo libro è un po sciocato però è uno dei nostri libri preferiti e io ho voglia di raccontarvelo un po marisa e il suo nido gli uccellini della fattoria cercavano un posto per costruire il loro nido i passeri l'avevano trovato il tetto della casa di milli con le sue grandi tegoli tegole era proprio quello che ci voleva ora volavano in cerca di ramoscelli di piume di pagliuzze arrego il cavallo stava facendo colazione dietro il recinto quando arrivò la rondine costruirò il mio nido nella tua stalla se tu vuoi gli disse ti avverto però che i miei piccoli saranno un po chiassosi fai pure rispose arrego sorridendo sarò contento di stare in allegra compagnia il picchio muratore aveva già scelto l'albero adatto robusto ma non troppo duro per farci un bel buco poi ci costruirò tutto intorno un muretto solido disse fra sé sarà più riparato era un esperto muratore e perciò la cosa non lo impensieriva il fringuello si era messo al lavoro prima degli altri e pensava il mio nido sarà come sempre il più bello il più robusto il più morbido il più sicuro tutti sapevano era un artista anche il cucolo lo sapeva e dopo averlo osservato attentamente di nascosto disse questo andrà bene per me è davvero il più bel nido l'uccello sarto aveva scelto due foglie larghe e robuste ora stava cucendole assieme il suo era un lavoro delicato e difficile a volte gli uccellini si fermavano un momento a guardarlo chissà come farà si chiedevano stupiti in quel sacchetto di foglie i suoi piccoli staranno comodi sicuri e cullati dal vento marisa lagazza aveva cominciato molti nidi ma non ne aveva terminato nemmeno uno anche quella volta qualcosa che lucicava da lontano la distrasse dal suo lavoro e anche quella volta si precipitò a vedere che cos'era dalla cucina di milly mancavano un cucchiaio e una forchetta samuele non trovava più il suo bicchiere e a pericle era sparita la bottiglia del latte marisa aveva disposto tutto quanto in bell'ordine nel tronco cavo della vecchia quercia era molto fiera della sua collezione e se la stava sempre a guardare così ogni volta dimenticava dov'era il suo nido e doveva ricominciarne un altro martin pescatore proprio in quei giorni stava ultimando il suo nido sulla riva del ruscello una volta le disse che cosa te ne fai di tutta quella roba se non ti affretti i tuoi piccoli non avranno una casa ci penserò dopo gli rispose marisa volando verso la vecchia quercia con qualcosa nel becco quando arrivò il giorno di deporre le uova il nido di marisa non era ancora pronto povero a me piagnucolava marisa ammonticchiando in fretta un po di sterpi fra i rami di un albero che brutto nido avranno i miei piccoli ma anche quella volta vide lucicare qualcosa e dimenticò subito il suo gruccio laggiù dietro il pollaio di battista c'era qualcosa che mancava la sua collezione un bel fiasco non ci pensò un momento con un battito d'ali lo raggiunse lo afferrò col becco e via questo sarà il più bel pezzo della mia collezione pensò per la gioia si mise a cantare e fu così che il fiasco le scivolò dal becco il più bel pezzo della sua collezione precipitò nel vuoto e andò a sfasciarsi al suolo con un gran tonfo non rimase che la paglia marisa la guardò a lungo con le lacrime agli occhi poi improvvisamente capì che quella paglia anche se non lucicava era la cosa più preziosa che potesse desiderare ora anche marisa aveva finalmente il suo nido e lo andò a sistemare proprio sul ramo più alto della vecchia quercia ciao bambini alla prossima lettura